Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo video unboxing. Sono appena tornato dal mio viaggio a Londra, ragazzi vi racconterò tutto, vi farò il video dove vi spiego come arrivare al Warner Bros Studio Tour, vi farò il video acquisti, parleremo di tutto, ma intanto devo aprire un po' di pacchetti perché sono arrivato a casa giusto un paio di giorni fa e ho trovato una bella montagnola di pacchi ad aspettarmi. Quindi ragazzi direi di cominciare, però prima vi ricordo che utilizzando il codice sconto 7Potter su Pampling avrete non più il 15% ma il 20% di sconto su tutti i vostri acquisti, questa è una maglietta che ho preso su Pampling e ragazzi naturalmente in info box troverete tutti i link utili. Bene, detto questo cominciamo, il primo pacchetto l'ho già aperto perché è arrivato un po' strappato e si tratta di Rocketman, il Blu-ray del biopic di Elton John. Naturalmente questo è distribuito da Universal Picture Home Entertainment che ringrazio tantissimo per avermene inviato una copia perché avevo già visto altri biopic e volevo assolutamente vedere anche questo qui che è quello di Elton John interpretato da Taron Egerton che mi hanno detto essere stato davvero molto molto bravo. Io ho anche visto il biopic di Freddie Mercury, mi è piaciuto tantissimo quindi volevo vedere anche questo qui di Elton John. In questa versione in Blu-ray addirittura ci sono 75 minuti di contenuti extra, c'è la versione col karaoke e poi 10 scene eliminate, versione estesa e performance musicali estese. Quindi non vedo l'ora di guardarlo e magari ne parleremo su Instagram nelle storie. Detto questo, grazie ancora a Universal Picture, andiamo avanti e invece apriamo un pacchetto che mi arriva da Warner Bros. Vediamo cosa c'è all'interno, prendiamo il bisturi e tiriamo fuori il film o serie o qualsiasi cosa ci sia all'interno. Uh, ragazzi, mi hanno mandato Hit, la versione Blu-ray. Non si tratta del nuovo Hit, quello uscito al cinema di recente, ma si tratta di Hit, la prima versione, quella originale di tanti anni fa. E questo film, ragazzi, vi dirò la verità, mi ha letteralmente terrorizzato da bambino. Io ho passato non so quante notti insonni per colpa di questo clown spaventoso e adesso mi sa che mi toccherà riguardarlo. È una bella edizione, è presente anche la slipcase e vediamo come si presenta all'interno. C'è questo bellissimo artwork all'esterno, bellissimo nonostante ci sia Hit sopra. E poi sotto, ecco che troviamo la copertina originale, quella con scritto Stephen King e il titolo. E ragazzi, io non posso dirvi che a me questo film è piaciuto tantissimo perché da bambino mi ha terrorizzato. Quindi, magari adesso lo rivedrò con calma e vi farò sapere cosa ne penso. Mi sono sempre rifiutato di riguardare Hit perché mi ha appunto traumatizzato. Se non ricordo male era anche diviso in due parti e lo diedero in televisione. Non so se uscì proprio al cinema questo film. Fatemi sapere voi sotto nei commenti che magari siete più informati di me. E ragazzi, non ho ancora neanche recuperato la versione nuova, la parte 1 e parte 2, che invece hanno rifatto di recente. Sono molto molto curioso. So che la mia è una paura immotivata derivata da paure da bambino, ma ragazzi, tant'è. Io però dovrò combattere questa cosa e quindi grazie a Warner per avermi inviato la nuova versione in Blu-ray di Hit. Che, ragazzi, naturalmente trovate sotto linkato in info box. E ditemi anche se vale la pena guardare la nuova versione. Invece adesso passiamo a un po' di pacchetti che mi sono arrivati da Amazon. Credo di sapere da chi. Probabilmente sono tutti da parte di Oki. E alla fine, ragazzi, invece vi parlerò di un prodotto che ho acquistato, che non vedevo l'ora di avere tra le mani. E che mi è arrivato direttamente dall'Inghilterra, ma che è adesso disponibile anche su Amazon. Ma vi spiegherò tutto e si tratta naturalmente di Harry Potter. Sicuramente ve l'avrò già spoilerato in copertina, però voglio parlarvene per bene. Apriamo questo pacchetto qui e vediamo se è quello che penso io, se anche questa è roba di Oki. Sì, è roba di Oki anche questa. E mi hanno mandato una mini RGB light, quindi una luce RGB in miniatura. Apriamola così magari la guardiamo bene assieme. Ed eccola qui, in tutta la sua bellezza. Nella confezione è incluso anche il cavo di ricarica USB. E vediamo, qui dice di rimuovere la parte superiore prima dell'utilizzo. Io non lo farò. Sotto abbiamo il tasto di accensione e vediamo. Oh, eccola. Bella, fa una gran bella luce. È possibile anche attaccarla da qualche parte e usarla magari come lampada di lettura. Io l'avevo vista, se non ricordo male, presente anche in colore nero. E dovrebbe, sì, infatti fa anche la luce calda, quindi calda e fredda all'occorrenza. Ha anche i led colorati. Vediamo, sì, cambia addirittura tutti i colori dello spettro RGB. E poi, se non sbaglio, toccando qui in alto, ecco infatti si spegne. Ragazzi, questa è molto molto carina. Io l'avevo vista da un po' perché guardo sempre i prodotti di Oki, mi sono sempre trovato bene. E quindi li ringrazio tantissimo per avermela mandata. Naturalmente anche di questa trovate il link sotto in infobox. E vediamo se continuiamo ancora su questo filone di Oki. Anche questo arriva da Amazon. E vediamo cosa c'è all'interno. Pacchettino. Ok, questa cosa molto molto utile ragazzi. Anche perché con i nuovi telefoni ormai è praticamente indispensabile. Si tratta di una basetta di ricarica, quella wireless. Io ne ho già una o due di Oki e mi sono trovato benissimo. E questa qui magari la metterò in cucina così in ogni stanza la basetta di ricarica e posso non rimanere mai senza ricarica nella batteria. Eccola qui. La basetta è molto molto sottile. E' presente anche il cavo da attaccare qui dietro nella porta. E poi va semplicemente attaccato in una porta USB. Quando andate a poggiare il vostro smartphone compatibile con questo sistema di ricarica sulla basetta, va in automatico in ricarica e poi basta sollevarlo per smettere di ricaricare il telefono. A me all'inizio è successo un paio di volte che poggiavo qui il telefono, sembrava stesse caricando, e poi magari durante la notte, a causa di un lieve spostamento perché non era proprio posizionato al centro, non andasse più ricarica e quindi mi capitava di svegliarmi e trovare il telefono completamente scarico. Però devo dire che negli ultimi periodi non mi è più successo. La colpa era mia che magari lo mettevo troppo in bilico. Basta posizionarlo bene al centro della basetta e il problema viene completamente eliminato. Quindi sono contentissimo di averne un'altra, sono super utili. Finalmente possiamo liberarci dai cavetti da attaccare e staccare che si rompono continuamente. E quindi, bella idea questa qui. E grazie Oki anche per quest'altro prodotto che trovate sempre sotto in infobox. Altro pacchetto, stiamo per finire e poi parleremo di Harry Potter. A proposito di cavi, questi sono dei cavi che io avevo già e che non trovo più. Probabilmente qualcuno me li ha fregati, qualche amico che è venuto in casa me li avrà fregati. E ragazzi, sono dei cavi molto molto utili perché diversi dai soliti. Questi hanno la parte che si inserisce nel telefono a 90 gradi. Quindi, cosa succede? Che quando teniamo in mano il telefono, adesso ve lo faccio vedere meglio, il cavo non sta in posizione centrale e quindi non continuiamo a metterci le mani sopra, a doverlo spostare per fare qualsiasi cosa, ma essendo infilato così, in questo verso nel telefono, il cavo va verso destra o verso sinistra. Quindi, in ogni caso, anche poggiandolo sul tavolo, poggiandolo sul divano, non si va a piegare continuamente la parte di giunzione tra il connettore e il cavo. Quindi, questi sono molto molto utili. Poi, questi di Oki sono completamente rivestiti in tessuto, sono molto molto resistenti. Io, come vi dicevo, li avevo già, ma sono praticamente spariti da casa mia. O mia madre me li ha buttati per errore, non me l'ha mai detto, cosa molto 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 probabile. O, comunque, sono andati persi. Quindi, ragazzi, anche in questo caso, grazie a Oki, ce ne sono due nella confezione, uno rosso e uno nero, e direi che sono davvero molto molto utili e ve li super consiglio. E ultimo prodotto di Oki, invece, che è arrivato anche in questo caso in una confezione completamente distrutta, e che io ho già aperto, è questa lampada, che è una figata pazzesca. Si chiama Oki Aura Lamp. Questa mi è arrivata prima di tutta questa roba, e magari qualcuno l'avrà già notata, l'ho posizionata dietro di me, alle spalle del castello di Hogwarts di Lego. Io ho qui il telecomando, che arriva incluso nella confezione, e vi faccio vedere. Praticamente è una lampada LED, che ha diversi effetti luminosi. Ha diversi giochi di luce LED, fa LED arcobaleno, fa giochi con i LED circolari, che però adesso vi faccio vedere un pochino meglio, spostandola qui sul davanti. Eccola qui. Ragazzi, guardate quanto è figa. Si tratta di un anello, che può anche essere utilizzato come light ring, per chi registra su YouTube, semplicemente piazzando la fotocamera, o il telefono, qui nella parte centrale. Questo tipo di lampada è molto utile, ad esempio, per chi fa video di beauty, di trucco, di queste cose qui. Però è molto molto bella anche da mettere, ad esempio, sulla scrivania, o io l'ho piazzata dietro il castello, perché ha diversi livelli di regolazione di luce, perché ad esempio si può anche abbassare la luminosità della lampada, e poi, come vi dicevo, ha diverse modalità. Come vedete, fa questi giochi molto molto carini, con i LED colorati, ad esempio anche quest'altra funzione qui, che va a intensificare la luce, e poi a ridurla. Qui vediamo un cerchio continuo di luce colorata, poi la luce naturalmente può anche variare di colore, può anche variare di velocità, ci sono tantissime impostazioni, e c'è soltanto che da giocarci, da scoprirle. Abbiamo il viola, abbiamo l'azzurro, abbiamo il giallo, abbiamo il blu, il verde, è davvero molto molto completa come lampada, ed ecco che poi c'è anche la modalità arcobaleno. A me piace davvero tanto, io ho deciso di metterla dietro il castello di Hogwarts, perché secondo me dà una bella sensazione dietro il castello, perché sembra quasi simulare il tramonto, sembra quasi simulare il variare della giornata, a volte la metto blu, a volte la metto rossa, a volte metto semplicemente la luce gialla calda, e mi piace l'effetto vicino alla tv, magari quando sono al buio nella mia camera, che guardo una serie su Netflix, allora accendo questa lampada, che è messa proprio di fianco alla tv, e mi piace vedere questo castello tutto retroilluminato, secondo me è molto molto carina. Questa lampada è davvero abbastanza pesante, si vede che è una lampada di buona qualità, la base è in metallo, bella piena, bella sostanziosa, e poi è facilissima da montare, sono solo due pezzi, la base è il cerchio, che arrivano in quella confezione di cartone, molto molto carina ed ecologica. Quindi davvero, questo è un prodotto che già sto utilizzando da un bel po', e quindi super approvato. Anche di questo troverete il link in infobox. Ma mettiamo da parte questa lampada, perché adesso voglio parlarvi, di questo bel pacco a tema Harry Potter. Io l'ho ordinato con larghissimo anticipo, perché non so mai aspettare, l'ho preso su eBay, perché su Amazon costava leggermente di più. È arrivato, sembra tutto a posto, ma adesso è disponibile anche su Amazon ad un prezzo più basso, diciamo più basso di quello che ho pagato io, quindi potete tranquillamente prenderlo lì, qualora foste interessati. Link sempre in infobox. Si tratta, smetto di fare il misterioso, del calendario dell'avvento di Harry Potter. Io non ho mai comprato i calendari dell'avvento, questi di Lego o altri tipi, perché mi sembrano soldi un po' buttati, non lo so, non mi sono mai piaciuti granché. Però questo qui di Lego di quest'anno mi è piaciuto, perché va a rappresentare una scena natalizia nel suo complesso, che si svolge all'interno della sala grande. Quindi, in ogni casellina, andremo a trovare dei pezzi, che andranno a comporre questo piccolo diorama. Adesso lo tiro fuori dalla scatola e poi ne parliamo. Eccolo qui, ragazzi, in tutto il suo splendore. Questo è un set Lego, che è consigliato dai 7 anni in su, quindi direi che ci stiamo dentro, ed è composto da 24 caselline. Come potete vedere già dall'immagine, dall'illustrazione, si tratta della sala grande, dove poi, in ogni casellina, troveremo dei piccoli pezzi di Lego, dei piccoli personaggi, o dei piccoli accessori, che andranno a comporre tutto questo diorama. Avremo dei personaggi come Harry, Ron, Hermione, ma se non sbaglio anche la McGranit e Silente, e poi avremo l'albero di Natale, i pacchetti regalo, gli standardi delle varie case, il camino con la ghirlanda di Natale, il tacchino, le panche di Hogwarts, e chi più ne ha, più ne metta. Se non sbaglio, anche un piccolo espresso per Hogwarts, un trenino giocattolo, la scacchiera, ci sono diverse cose, e quindi, gli piaceva l'idea di andare a tirare fuori, giorno per giorno, un pezzettino, fino ad arrivare al 24, e poi avere tutta la scena completa. Io, ve lo dico già, magari deluderò molti di voi, non sono uno di quelli youtuber, che compra il calendario dell'avvento, spende anche tanti soldi, perché questo qui, tutto sommato, è costato circa 25, 26 euro, non ricordo esattamente quanto, comunque meno di 30 euro, ma ci sono calendari dell'avvento, come quello di Funko, che ad esempio, costa 70 euro, e io, comprare un calendario dell'avvento, per aprirlo subito, per tirare fuori tutto, in un unico video, sinceramente, non mi piace, non trovo il senso, il calendario dell'avvento, è fatto e pensato, per essere aperto giorno per giorno, dal primo dicembre, fino al 24 dicembre, quindi questa cosa, di comprare i calendari dell'avvento, e aprirli in modo compulsivo, tutto in una sola volta, non mi piace, scusatemi, perdonatemi, ma io non lo farò, naturalmente, lo aprirò assieme a voi, io ogni giorno, a partire dal primo dicembre, aprirò con voi, una casellina, del calendario, sulle storie di Instagram, così, lo condividerò comunque con voi, e magari voi potrete condividere, i vostri calendari dell'avvento, con me, mandandomi le vostre storie, quindi, piano piano, lo aprirò, con moltissima calma, qui, come vedete, è presente il pavimento di Hogwarts, e anche una parte innevata, perché ci sarà una parte di oggetti, che andranno messi all'interno, quindi, qui nella sala grande, e una parte all'esterno, quindi, qui, e, secondo me, è un'idea molto, molto carina, sul retro, ci sono altri piccoli spoiler, con alcuni dei prodotti, che troveremo all'interno, ma, ragazzi, io devo dirvi, che sono molto, molto soddisfatto, il prodotto, non costa tantissimo, siamo circa, facendo la divisione, per ogni giorno, 24 caselle, circa un euro a casella, quindi, un caffè al giorno, praticamente, ci può anche stare, calendari da 80-90 euro, per dei mini Funko, io, ragazzi, non li capisco, non voglio spenderceli, con 90 euro, mi compro, almeno, 5-6 Funko Pop, normali, che magari, posso aggiungere alla mia collezione, fatemi sapere, voi, cosa ne pensate, di questi calendari dell'avvento, se li avete acquistato, se li avete prenotato, ci sono tantissimi calendari di Lego, ovviamente, su Amazon, ma anche di tantissime altre marche, io, non potevo che scegliere quello del Harry Potter, ma, fatemi sapere voi, cosa avete acquistato, e fatemi sapere, se anche voi, siete entrati, nel tunnel, dei calendari dell'avvento, bene ragazzi, la smetto, di massacrarvi le orecchie, e quindi, io, vi ringrazio, per aver visto il video, fino alla fine, vi chiedo naturalmente, di mettere un mi piace, commentare, condividere, tutto quello, che sapete, e, naturalmente ragazzi, io vi saluto, e vi do appuntamento prestissimo, con tanti video, e soprattutto, con i video dedicati a Londra, ciao! Ciao!